I segni della parodontite sono inizialmente un'infiammazione del colletto gengivale, cioè di quella parte di gengiva che circonda il dente. Ci può essere sanguinamento, ci può essere dolore, crudito, ci può essere retrazione gengivale, anche sensibilità a volte alle cose dolci, oltre che al caldo e al freddo. È importante però sapere che cos'è il parodonto? Praticamente il parodonto è quell'insieme di strutture che tiene legato il dente al suo alveolo naturale, quindi la gengiva, la radice che viene legata all'osso alveolare attraverso un legamento che appunto si chiama parodonto. L'infiammazione del parodonto è legata alla presenza di specifici batteri nella placca, quindi è fondamentale rimuovere quotidianamente la placca dai denti, con un adeguato spazzolamento e l'uso di ulteriori mezzi per la pulizia, quali il filo interdentale e il colluttorio.